Mamma, devi tagliare la salsiccia e spalmare il burro a stewe. Sì, aspetta, ci penso io. Ecco, mangia tutto, piccolino. Cavolo, Peter, hai rovinato la sua sedia. E Bonnie chiede cos'è questo chiasso. Una cosa stranissima, Joe. Peter e Lois erano proprio qui a parlare con noi e sono scomparsi. Va bene, continua pure a darmi i dettagli e io noterò tutto minuziosamente senza disegnare dei fichissimi cacciastellari sul tacquino. Ok, erano le cinque e mezzo ed eravamo appena tornati dalla spiaggia. Ci stavamo divertendo lavare i piatti. Poi Peter e Lois si sono arrabbiati con noi e hanno iniziato a strillare. I punti in bianco sono stati avvolti da una luce brillante e sono scomparsi. Grrr, disse Ciubecca. Peter, ho appena preso una buca e ho una gomma a terra. L'uomo che l'ha aiutata le ha dato il suo biglietto. Io lo terrei d'occhio. Questa città cade a pezzi. La scorsa settimana è crollato. Il ponte sul ponte è crollato. Sei una donna di mezz'età senza lavoro? Forse dovresti appassionarti alla cosa. Sai che c'è? Credo proprio che lo farò. Vado subito al municipio a lamentarmi. A questa città serve un sindaco. Hai dimenticato il tuo bambino? Signora! Ci sono voluta sei ore per spazzare questi bondizi, ma almeno non è stata fatica buttata al vento. Ehi! Che cosa ho fatto? Questo non è Big Mouth. Non lo vedrete. Buon pomeriggio da Tom Tucker. La notizia principale è che le rivelazioni sull'eroe cittadino Poe Tuckett Pet continuano a sconvolgere Kog. La città è divisa sul fatto di abbattere o meno la statua nel parco. Anche i piccioni che ci fanno la cacca hanno un dilemma morale. Cosa ne pensate del fatto che la statua è su un terreno pubblico? Non! Il postino è un mio amico. Voglio fargli prendere un infarto. Peter, benvenuto al tuo primo giorno. Doc, potrebbe sembrare sciocco, ma... Che devo da fare? Come infermiere è importante sapere come funziona ogni reparto dell'ospedale, quindi oggi mi serve che tu assista in chirurgia. Boo! Boo! Mia sorella sa attaccare i ventricoli meglio di te! Non è ebreo! Andiamo tutti insieme! Non è ebreo! Chris, perché tu hai questo bambino sconosciuto molto più piccolo con cui non hai niente in comune? Non andate in camera tua a passare un po' di imbarazzante tempo insieme? Oh, ok! Ti va di andare di sopra a rompere uno dei miei giocattoli così posso picchiarti? Volentieri! Ehi, non toccarlo! Mamma! Ha bloccato il mio pugno e mi ha colpito! Sapevo che sarebbero andati d'accordo. Ah, non posso. Ho i biglietti per un'inutile partita di baseball. Chi viene con me per morire di freddo come non gli è mai successo in tutta la vita? Vengo io! Cacchioso! Ci divertiremo come mosche su una cacca di cane! Mi dispiace, la cacca di cane è piena! Benvenute, signore! Peter, perché nostra figlia sta frequentando un gay? Lois, neanche io faccio più finta di interessarmi a quanto accade là fuori. Megad è tutto inconsapevole. Quello che vorrei sapere è perché lui lo sta facendo. E poi è una cosa tanto brutta, Lois. Insomma, insieme si divertono. A proposito di divertirsi, che ne dici se tu e io facciamo un po' del vecchio... Qualcuno di voi ha visto il vino bianco? Scusa, l'ho bevuto io. Oh, fa niente, Brian. Che ne dici se andiamo a fare due passi nel bosco? È un'idea carina. Avevo paura che mi avresti ucciso in stile Il Padrino. Oh, Brian, io non guardo mai i film di mafia. Ma ho visto tutto Fargo. Eh? Ragazzi, ma che ci prende? È sabato mattina e stiamo bevendo in un bar. Dovremmo bere al cassonetto delle donazioni di Goodwill. E perché mai? Ci sono i resti di tutti i mercatini casalinghi e quindi la prima scelta degli avanzi abbandonati. È un'idea stupida, non ci sarà niente di buono in quel cassonetto. E se vi dicessi che tutto quello che ho addosso l'ho trovato in quel cassonetto? È una fascia di avvio al nubilato? Scott ha detto che posso fare dei lavoretti di mano, ma nient'altro. Farò qualcosa di veramente speciale per Rupert. Gli dimostrerò quanto è importante per me, Annabelle. Oh, no, 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 non voglio che uccidi nessuno. Ti faccio sapere. Ecco dov'eri. Che ci fai qua su? Oh, ciao, Brian. Sto facendo un collage per Rupert. Facciamo faville ultimamente e vorrei fargli sapere quanto tengo a lui. Che cosa stupida. Beh, Annabelle non la pensa così, vero, Annabelle? Porca c***a, che cos'è quella? Potete prendere questo lavoro e... Sorpresa! Io? Sì, sì, grazie. Oh, non avete idea di quanto mi servisse questa cosa. Sei uno a posto, Griffin. Levi! Per essere un c***o. Basta usare quella parola. Basta usare quella parola. Comunque fammi inserire la carta. Ne ho presa una col chip. Sembra di vivere in un film di Star Wars. Ok, vado di moneta per la mancia. Sì, hai sentito bene. Ti andrebbe di donare una tazza di caffè a un soldato al fronte oltreoceano? Certo, sembra una buona causa. Ehi, ecco un caffè da parte di una signora di Rhode Island. Cosa? Sei della AWK? Ma che diavolo, Peter, sono io, Brian. L'autorità della valle di Kog vuole farmi togliere le tende da qui. Cos'è questo posto? È dove produco il mio liquore libero dalle ingerenze del governo. Tieni, prova un goccio. Che c'è dentro? Non ne ho idea. Mi farebbero comodo un po' di ingerenze del governo. Ah, in effetti non è male. Non posso credere di aver mangiato due contenitori di calamari. Ma ho ancora fame. Cos'è rimasto in frigo? Ti direi che non c'è nient'altro da mangiare, ma con quello che è rimasto in frigo io ci ho fatto il lavoro. Questo pochè di tapioca dal retrogusto di legno è delizioso. Chris ci ha fatto sesso. Rilassati, non ho finito però. Oh. Presidente Shepard, cosa ci vorrà per fare entrare Meg al college? Se Meg dovesse avere una possibilità avrà bisogno di un aiutino extra. Faremo tutto il necessario. Bravo, quindi sono sicuro che sapete come funziona. Sì, è tutto chiaro. Significa che ci vediamo in macchina. Non intende finirci a letto. Ho delle opzioni. Mi sa che sono troppo pesante per questo giro. Sono progettate per ogni tipo di stazza, tranquillo. Ah, aiuto! Sono troppo pesante, Glenn! Sono troppo pesante, sono troppo pesante, signor Quasmyer! Sono troppo pesante, sono troppo pesante, Glenn! Sono troppo pesante, sono troppo pesante, sono troppo pesante! Sembra che non dovrò seguire solo la mia coda questa settimana. Ehi, che cosa? Tutti i cani vanno confinati nel ponte inferiore. Stevie, aiuto! Sapevo che era un'eventualità, così ti ho messo nello zaino un giochino di baseball della Mattel dell'82. Ok, è già qualcosa. La batteria potrebbe essere un po' vecchia. Molto bene, andiamo? Un momento vado a salutare Lois. Dove diavolo pensi di andare? Lo sai, all'Ostrica, con i ragazzi. Oh, sorpresa, sorpresa. Un'altra serata con gli sfigati. Sfigati? Dimmi le cose che non vanno per ognuno di loro. Con immenso piacere. Lois vi saluta. Su, andiamo! Non so, ma dovunque mi trovi, mi sento fuori posto. È un mondo diverso da quello a cui sono abituato. Bravo! Fallo un'altra volta e lo mettiamo ai voti. Cacchio, dove hai imparato una battuta così? Oh, ci sono molte cose che non sai di me. Sai, Peter, io e te non siamo poi così diversi. Anche tu hai problemi di edizione. Chris, eccoti qua. Patty, che succede? Non è l'ora di puttaneggiamento. È per tua sorella Meg. Lei è... morta. Allora devo andare. Aspetta, ma dove vuoi andare? Vado in un club dove sono troppo giovane per entrare ad ascoltare una band della casa discografica dell'emittente che produce lo show. Ehi, chi ha lasciato il suo gender fluido nella doccia? Preside Shepard ci ha sorpresi la sua telefonata. Cosa succede? Signora Griffin, Meg e Chris hanno imbrogliato. Cosa? Sì, hanno messo i ragazzi perduti del Sudan al loro posto durante l'ora di ginnastica. Bel blocco, Griffin! Bel tiro, altro Griffin! È terribile. Tu che pensi al riguardo, Peter? Male. Molto male.